E' un duello meraviglioso, una costina altalena in vita alla classifica, ieri l'allungo dell'Inter, oggi la possibilità della Roma di tornare al comando. Dallo Stadio Olimpico in Roma, una buona serata da Maurizio Compagnoni. E' Massimo Mauro. Ballone per Totti all'interno dell'area di rigore, nel paleggio il capitano della Roma, il ballone per Meneze, il tiro cross Torori, la balla resta lì, e poi cazzo l'angolo. Battuto, corto l'angolo, il pallone per Meneze, lo ributta in aria, quasi! Il guardalino non ha alzato la bandierina, quindi era buona. Arriva a rimorchio De Rossi, il pallone per lui, centralmente c'è Meneze, Pizarro, palla in aria, De Rossi, sfonda, per rotta, Storari. Vucinic, pallone per Totti di ritorno, ancora Vucinic, insiste la Roma, ancora l'ingrasionare di gore di Vucinic, la puntata a Totti, rete, rete! Francesco Totti, la Roma è in vantaggio! Quei due si guardano e si trovano, davvero una grande giocata di Totti, perché ha servito Vucinic, poi lo ha guardato, ha fatto il movimento, e praticamente gli ha detto adesso me la devi dare, gliel'ha data col tempo giusto, e poi Totti lì è un maestro. Oltre a dare la palla, è capace anche di capire come fare per tenere la passa e battere il portiere. Tocco del francese per Cassetti, che a fondo va in percussione, Cassetti in aria di rigore, il cross, a terra finisce Totti, Vucinic, può arrivare in mezzo a tiro, a rimorchio arriva Riese, grande palla, Totti, Totti, Storari! E l'apertura per Zagli, che è rimasto largo a destra, in posizione avanzata, il cross in aria, Pazzini, cerca l'antissimo, palla grassa lì, Juan, Cassano, Cassano, Burtisso! Batte Pizarro, palla in aria, Juan di testa, la gira per Riese, in zona tiro, Riese colpisce malissimo, diventa una sorta di assist, prova ad arrivare sul pallone Menesse, Menesse con capabilità, Menesse, la parata, tocca il volo, fuori! Tanta attenzione, Vucinic, in aria di rigore, Vucinic, parte il tiro, Storari! Mannini su Cassetti, attacca Cassano, si accentra Cassano, linea 2 su di lui, ancora Cassano che insiste, quelli sinistro, secondo palo, colpo di destra rete, il pari della Sampdoria, ha segnato Pazzini! E qui Cassano ha fatto una grandissima cosa, perché da fermo ha triplato, poi ha ripreso la palla, e a giro di sinistra un grande cross, e quando fai queste cose a Pazzini, Pazzini non sbaglia mai! Fanno muri i difensori della Sampdoria, spazi intensatissimi, Menesse, ancora Totti, si propone Menesse, prova il tiro, esterno della rete! Parte Pizarro a cercare, Toni! Storari c'è arrivato! Palla che resta lì, ancora Storari, subito Toni! Attenzione che è partito Vucinic, Vucinic, gola verso l'anno di rigore, Vucinic, esce Storari! Determinante Storari, Vucinic si arrabbia, non per l'intervento di Storari, ma per quello precedente! Tant'è chiuso da Ziegler, palla all'interno dell'area, Totti prova a girarsi, Totti al limite, pallone per Riese, guarda il tiro! Storari mostruoso! Bella apertura per Mannini, Tatei è rimasto davanti, Mannini punta pur disto, doppio passo di Mannini, palo sul sinistro, costitare Pazzini, Pazzini! La Sampdoria in vantaggio! Che muovere all'Olimpico, l'impresa della Sampdoria, che batte 2-1 la Roma!